Si chiama Domus Med ed è il servizio di diagnostica a domicilio per il quale la Fondazione Mazzali ha ottenuto dalla Fondazione Cari Verona un contributo di 210.000 euro. Il progetto è stato presentato stamani da Mara Gazzoni, presidente della Fondazione Mazzali, ente capofila affiancata dai rappresentanti degli altri partner coinvolti nella sperimentazione e quindi Comune di Mantova, Aspef, Associazione Cuore Amico, Consorzio Progetto Solidarietà e la società Home Array. Il progetto metterà a disposizione degli anziani e disabili del Comune di Mantova una serie di importanti indagini diagnostiche, elettrocardiogrammi, ecocardiogrammi, radiografie, oltercardiaco, TSA, elettromiografia e potenziali evocati. Oggi, se un anziano o un disabile con difficoltà di deambulazione o comunque di spostamento, deve sottoporsi ad una di queste indagini, deve recarsi in ospedale o in un centro diagnostico convenzionato o privato, facendosi carico della prenotazione del costo di un'ambulanza o di un mezzo idoneo e di un accompagnatore. Una volta effettuato l'accertamento, dovrà attendere il referto e che il medico di famiglia o lo specialista lo valuti al fine della diagnosi. Tante dunque le criticità. Con DomusMed, il soggetto fragile potrà eseguire invece gli esami a casa propria pagando un ticket di 35 euro, salvo che non si tratti di una persona non abbiente in carico ai servizi sociali, per la quale la prestazione sarà gratuita. Il referto viene rilasciato in tempi brevi grazie alla telemedicina. La sperimentazione durerà due anni e partirà il 15 giugno, con la speranza di poter dare poi continuità al progetto, ampliando l'ambito territoriale oltre al comune capoluogo. Io credo che questo sia stato, sia veramente un progetto molto importante, molto interessante per la nostra comunità, soprattutto dal dopo Covid, quando abbiamo visto che veramente ci sono difficoltà da parte dei nostri concittadini ad approcciarsi alle strutture. I tempi, le liste d'attesa sono lunghissime e quindi credo che sia un servizio che sia molto importante per la nostra comunità e quindi noi che siamo molto attenti, sia come Fondazione Mazzali, come Comune di Manto su queste tematiche, di aver fatto un buon servizio e ringraziamo anche la Fondazione Cari Verona che ha progettato questo unico progetto, è passato solo il nostro progetto presentato da noi.